Ma che stile, ma che stile! Che fai? Andiamo su? Andiamo in giro? Siamo in uno 70. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si è passato sopra il buco con il dietro. Eh, ma la volta è su. Ormai con lì mi ha dato una salita. Passaggio alto. Lui ha messo la ruota dietro nel buco. La moto ormai è su. Grazie a tutti. Noi, 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 noi. 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 Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, no, noi, 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 noi. un po' Un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie. Questa è una quarta a vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.